torniamo ai versi iniziali della canzone 127 anzi al primo verso in quella parte dove amor mi sprona beh qui Petrarca ha direttamente copiato le parole iniziali della vita nuova in quella parte del libro della mia memoria quindi Petrarca nel formularsi la domanda sull'ordinamento dei testi sta pensando precisamente alla vita nuova e infatti anche Dante se la pone questa domanda la risposta la leggiamo nel capitolo 39 della vita nuova contro questo avversario della ragione la donna gentile di cui si è innamorato Dante dopo la morte di Beatrice si levò e un die quasi nell'ora della nona una forte immaginazione in me che mi parve vedere questa gloriosa Beatrice con quelle vestimenta sanguigne con le quali apparve alle occhi miei e pariami giovane in simile età dei in quale io prima la vidi allora cominciai a pensare di lei ricordandomi di lei secondo l'ordine del tempo passato per Dante non ci sono dubbi circa l'ordine con cui le poesie devono essere disposte nel libello e l'ordine del tempo passato cioè la cronologia della sua esistenza che attraverso il lutto per Beatrice che è morta acquistato un significato ed una direzione la sua vita è una storia romanzescamente narrabile attraverso i testi che documentano il suo amore per Beatrice proprio come lo è il canzoniere per Petrarca che narra la storia del suo amore per Laura la canzone 127 scritta apparentemente quando Laura è ancora viva ci mostra un poeta che non dispone ancora dell'elemento fattuale che metterà in ordine l'esistenza da una parte le poesie dall'altra per entrambi però cioè per il Dante della vita nuova e per il Petrarca del canzoniere il problema capitale che pone al poeta l'esperienza lirica è quello di dare un ordine cioè una struttura cronologica narrativa e romanzesca ai frammenti testuali il che implica un'operazione intellettuale complessa che consiste nel risemantizzare il testo lirico all'interno della nuova struttura in cui è inserito o nel caso di Petrarca fingere che il testo fu scritto indipendentemente da tale struttura nel caso della vita nuova questa operazione di risemantizzazione è evidente poiché la prosa interpreta il testo poetico a partire da un momento in cui la storia e il romanzo narrato sono già terminati i testi lirici sono messi in prospettiva temporale fin dal principio dalla prosa che li commenta nel canzoniere invece questa operazione di risemantizzazione viene sapientemente dissimulata noi la percepiamo in qualche misura grazie alle redazioni iniziali dei testi che sono documentate dal codice degli abbozzi ma essa non è per questo meno presente e ci fa comprendere anzi che il movimento di organizzazione dei frammenti poetici in libro di poesie è ben presente ed anzi essenziale anche in dante e soprattutto nella vita nuova e che quindi Petrarca impara da dante a mettere in ordine la propria poesia e la propria esistenza dobbiamo allora concludere da tutto ciò che le rime di dante sono frammenti di poesia residuale ai quali dante non ha mai pensato di dare un ordine ed un contenitore unificante se si escludono le due antologie della vita nuova e del convivio non necessariamente in realtà dante diede un ordine alle proprie rime e proprio la canzone citata da Petrarca come esempio di frammentazione patologica dell'io così del mio parlar voglio essere aspro insieme ad altri elementi ce lo fa capire